Ciao a tutti, mi chiamo Gianluigi Bonanomi, sono un formatore sulla comunicazione digitale, faccio diversi corsi, da LinkedIn al Brand Journalism alla scrittura per il web, ma in particolare anche Personal Branding, è un po' il mio cavallo di battaglia, ci credo molto, credo che sia un tema determinante per tutti quelli che hanno una presenza online. Fare Personal Branding vuol dire tante cose, vuol dire anche partire però da un'analisi della propria situazione, della propria carriera, fare un assessment praticamente su quello che è il tuo posizionamento, su quelle che sono le tue opportunità sul mercato e per fare questo c'è uno strumento che ho mutuato dal mondo aziendale, il mondo dell'analisi del business che è la SWOT Analysis. Che cos'è la SWOT? È uno schema che qui vedi e che praticamente rappresenta un po' la fotografia, lo stato dell'arte di quello che è la tua impiegabilità, si dice praticamente quanto sei appetibile sul mercato. E qui ci sono punti di forza e punti di debolezza, in particolare SWOT sono praticamente le iniziali parole inglesi che traduco subito come punti di forza e punti di debolezza, opportunità e rischi sul mercato. Quindi c'è da fare un'analisi interna e soprattutto esterna verso il mercato. Per spiegare un po' come funziona la SWOT faccio un esempio che ho trovato online che mi è sembrato molto carino. Io seguo un po' il calcio, ho scritto anche la guida calcistica di LinkedIn e si può applicare la SWOT a per esempio una scelta che fece l'Inter per il dopo Murigno. Io non sono interista però mi piaceva questa storia. Diciamo, quando Murigno lasciò si puntò sul giovane Stramaccioni. Allora lì probabilmente sono state fatte delle valutazioni da parte della società. Magari in un ideale SWOT si potrebbe dire questo. Qual è il punto di forza di Stramaccioni? Stramaccioni è giovane, è innovativo, ha dimostrato nel suo percorso nelle giovanili dell'Inter che questo allenatore romano che era da un po' a Milano era sicuramente brillante. Questa è un'opportunità. Qual è il punto di debolezza però? È l'inesperienza, non aveva mai allenato in Serie A e quindi poteva essere una grossa scommessa, un grosso problema, una fonte di rischio. Vediamo invece rispetto all'esterno come si colloca questa cosa. Beh, dal punto di vista, diciamo, come opportunità di mercato era quello di presentare un rinnovamento dopo gli anni turbolenti, tra l'altro, e vincenti di Murigno e quindi venderlo come qualcosa di molto innovativo. Una scommessa anche che poteva essere in qualche modo accolta dal pubblico. è chiaro che la minaccia era, proprio perché inesperto, proprio perché c'era il rischio di non essere all'altezza del predecessore che praticamente aveva vinto tutto, alla prima sconfitta ci poteva essere una granola di fischi e un po' di sfiducia dell'ambiente. Ecco, queste sono le considerazioni che si possono fare, ma a questo punto possono essere fatte su se stessi. Io ho fatto la mia SWOT analysis e cerco di capire sempre come migliorarmi o dove stare attento ai punti di debolezza. Conoscere i propri limiti credo che sia un punto di forza, tra l'altro. Quindi, dal punto di forza è la poliedricità nella creazione dei contenuti. Anche quando faccio il formatore io vengo da un mondo dove dovevo credere a contenuti davvero e in azienda e quindi credo di essere credibile nel momento in cui poi racconto queste cose. Chiaramente un punto di debolezza potrebbe essere la mancanza di strettissima focalizzazione. Cioè, se facessi soltanto i corsi LinkedIn sarebbe certamente molto meglio in termini di posizionamento. Faccio anche altri corsi su altri argomenti. È vero che è sempre comunicazione digitale, ma questo potrebbe portare una defocalizzazione e non un riconoscimento da parte del pubblico dell'essere esperto di un solo argomento. Dal punto di vista del mercato, quale può essere il punto di forza e quanto è diventata importante la formazione? Io ci ho puntato dal 2012, adesso sta diventando determinante di tutte le aziende. Punti di forza potrebbero essere il fatto che adesso ci sono molti più progetti di formazione finanziata, che le aziende proprio investono. Il punto di debolezza è la concorrenza. Nel senso che nel 2012, per esempio, eravamo in 3 o 4 a fare i corsi LinkedIn in Italia, adesso stanno arrivando cani e porci, stanno arrivando anche quelli improvvisati, che fino a due settimane prima lavoravano in azienda, sono stati cacciati. Siccome si occupavano di comunicazione, si sono inventati i formatori di LinkedIn. Questa è la mia SWOT analysis. Prima ho fatto quella della scelta Stramaccioni. E la tua? Cioè, puoi metterti a tavolino e capire quali sono i punti di forza dove puntare, i punti di debolezza da migliorare, e quindi fare una sorta di analisi della tua impiegabilità. Buon lavoro!